Salve a tutti da Mario Santagatti e da Chesslogger per i video problemi. In questa posizione muove il bianco e vince. Bene, vi lascio alla risoluzione del problema, dandovi appuntamento ai prossimi video problemi, sempre con Chesslogger e Mario Santagatti. Ciao e alla prossima! Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie. Grazie.